Il Licata piazza i primi quattro colpi sul mercato. Si tratta di quattro atleti licatesi, due dei quali confermati. Il direttore sportivo Angelo Curella e il presidente Bruno Vecchio, seguendo le indicazioni del nuovo tecnico Mimmo Bellomo, hanno chiuso gli accordi con Eliseo Cambiano e Davide Ballacchino, centrocampisti che negli ultimi anni sono stati protagonisti con le maglie di alcune squadre della provincia, disputando campionati di eccellenza e promozione. Delle ultime ore è poi la notizia relativa a due conferme. La coppia di difensori centrali che l'anno passato si è disimpegnata più che bene sarà insieme anche nel prossimo campionato. Sia il capitano Ignazio Puccio che Antonio Ortugno hanno infatti deciso di prolungare il proprio matrimonio con il Licata. Appare vicinissimo poi il raggiungimento dell'accordo con il giovane portiere Savaia, estremo difensore gialloblu già nella passata stagione. I discorsi sono aperti anche con altri atleti. Joella e Domenico Cannizzaro stanno ascoltando le proposte della società ed è verosimile che a breve daranno una risposta. Stesso ragionamento può essere esteso ad Andrea Pinto che superati gli acciacchi che ne hanno limitato il rendimento nella passata stagione cerca il riscatto. Per quanto riguarda invece del reparto offensivo le discussioni sono aperte sia con Fabio Bonvissuto che con Angelo Zarbo a cui a sentire il DS Curella la società vorrebbe affiancare una prima punta di livello medio alto. E' stato lo stesso direttore sportivo a comunicarci che il tecnico Mimmo Bellomo si è detto soddisfatto dello sviluppo del mercato dell'Icata.